Pericoloso effetto erosione nelle spiagge di Castellammare del Golfo. Il Comune corre in ripari e affida un incarico ad un tecnico per lo studio del fenomeno dell'erosione dei litorali della costa all'interno del territorio castellammarese. Porzioni considerevoli della nostra costa, in particolare la costa all'interno del territorio comunale, afferma il responsabile del terzo settore del Comune, Simone Cusumano, sono soggette a fenomeni di erosione a rischio. E' stato notato un notevole arretramento del litorale fino all'annullamento quasi totale della spiaggia. L'idea quindi è quella di capire prima quanto incide il fenomeno e poi eventualmente intervenire con un progetto mirato per il ripascimento del litorale, cioè con l'inserimento di sabbia per la ricostituzione dell'arenile. Da qui l'idea del Comune castellammarese, sulla base anche di una precisa direttiva che era stata data dal Consiglio Comunale, di affidare un incarico all'ingegnere Rocco ricevuto. La sua parcella da 2.500 euro è stata accettata dal municipio. E' storicamente risaputo questo problema nella cittadina castellammarese. Nel suo piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della regione emerge infatti che tutta la spiaggia che va da Castellammare del Golfo a Trappeto è considerata critica, soggetta cioè a forte erosione ed arretramento. Anche la spiaggia di San Vitolo Capo presenta problemi di assottigliamento con affioramento di scogli sommersi. Le zone di Calamazzo di Sciacca, Torre Scopello e Calabianca, che ricadono tutte in territorio castellammarese caratterizzate da scogliere, sono invece soggette a movimenti franosi con distecco di masse dalle pareti a strapiombo per l'elevata fratturazione dei termini litologici presenti e per l'azione delle acque di ruscellamento. L'effetto che si verifica a Castellammare è quello che vede il mare asportare minore quantità di materiale e allora si verifica l'erosione della costa. Le cause possono essere diverse e tutte collegate fra loro. C'è una diminuzione del trasporto da parte dei fiumi, la presenza di opere costruite a mare e l'urbanizzazione della costa. Tutti fenomeni esistenti a Castellammare e quindi che hanno inciso contemporaneamente più o meno massicciamente. Secondo gli esperti, l'edificazione e il prolungamento dei molli portuali di opere di difesa come le scogliere frangiflutto e pennelli hanno determinato l'arresto della deposizione della spiaggia in alcuni tratti del litorale. A concorrere anche alla sostituzione della vegetazione spontanea e dei cordoni dunali con strutture balneari e palazzi costruiti spesso nel ridosso della battigia che ha provocato l'alterazione dell'equilibrio della costa.